Grande successo per il primo Memorial Luca Caruso, l'evento di pugilato che si è svolto domenica sera nell'anfiteatro del Castello Svevo di Barletta. Il ricordo del giovane avvocato barlettano con la passione per i guantoni scomparso a soli 29 anni passa dalla grande partecipazione della città sia all'evento sia alla raccolta fondi avviata dall'associazione Il Dono di Luca. Non avremmo voluto essere qua questa sera perché di fatto stiamo ricordando la morte di un giovane ragazzo, un giovane avvocato di Barletta che rende triste tutta quanta la città. Però grazie a Luca ci stiamo insieme, siamo solidali, stiamo con i genitori di Luca, vogliamo loro bene per quello che è accaduto. I contributi economici andranno a finanziare la ricerca per le malattie neurologiche infantili. La rete di solidarietà prosegue a gonfie vele. Sono orgogliosa perché questo evento è degno di Luca, della sua determinazione, della sua forza, del suo coraggio. Stiamo avendo una risposta eccellente, una risposta che non ci aspettavamo sinceramente in così poco tempo, però siamo contenti del risultato raggiunto. In tanti si sono sfidati sul ring dell'anfiteatro con palestre di pugilato giunte da ogni parte di Puglia. Luca continua a vivere attraverso la sua passione e la dedizione di chi l'ha conosciuto. Sono molto contento del risponso del pubblico della città di Barletta. Il ricordo di Luca è diciamo non c'è bisogno di descriverlo perché questa affluenza è diciamo il frutto del suo segno che ha lasciato in noi.